Buongiorno a tutti ragazzi e ragazzi, ben ritrovati sul canale, bentornati, state bene? Allora, il video di oggi è un video in collaborazione con il canale di Corleoncina B, ossia Carmen. Ciao tesoro, ti saluto. È nata l'idea di questo video in collaborazione poiché entrambe siamo appassionate della palestra, del fitness e quindi c'è venuta questa idea. È un video, secondo me, a mio avviso, per quanto mi riguarda, che racconta tanto perché appunto racconta una parte comunque sia della mia vita, pur essendo un hobby, che ha un'importanza davvero rilevante. Ovviamente nell'info box troverete il canale di Corleoncina, quindi andate a visitare anche il suo canale, andate a guardare il suo video. Allora, sono delle domande che riguardano appunto il tema dello sport. Io leggo sul quaderno perché appunto sono, credo, una quindicina di domande e il titolo di questo tag è praticamente tag fitness e mangiare sano, quindi la combo perfetta. Cominciamo subito con la prima domanda. Allora, domanda numero uno. Come hai iniziato ad approcciare al mondo dello sport fitness e perché? Allora, qui ci sarebbe una storia perché io ho iniziato diciamo ad approcciare a questo mondo all'età di 14-15 anni perché ero un po' più in carne e allora mi iscrissi in palestra però da subito capì che a me quell'attività diciamo un tempo si faceva comunque sia per lo più ginnastica a corpo libero. A me questa attività a corpo libero non piaceva assolutamente, la facevo di malvoglia e così mi iscrissi appunto ad una lezione di aerobica e da quella lezione di aerobica mi si è aperto un mondo e quindi ho iniziato ad approcciare proprio a questa disciplina quando ho deciso appunto di mettermi un pochettino a dieta e quindi di fare dello sport e quindi questa è anche la motivazione. Poi da quello ne è scaturito diciamo un percorso perché ho iniziato a seguire le lezioni proprio con tanta passione ad aerobica si sono aggiunte anche le lezioni di step e quindi poi ho fatto tutto un percorso fino ad oggi basato appunto sull'attività di aerostep, addirittura step coreografato. Quante volte alla settimana ti alleni? Allora io mi alleno lavorando, non ho molto tempo da dedicare onestamente alla palestra perché lavoro tutto il giorno, ho anche una famiglia, ho anche bambini e quindi mi alleno tre volte alla settimana lunedì, mercoledì e venerdì e faccio comunque una lezione di aerostep. Domanda numero 3. Quanto dura il tuo allenamento? Il mio allenamento dura un'ora, un'oretta e mezza, a volte se riesco ad andare prima oppure riesco a recuperare in qualche altro giorno posso fare oltre a quella lezione anche un po' di cardio, quindi faccio un po' di ciclette, un po' di tapirulà però grossomodo è un'oretta, un'oretta e mezza. Domanda numero 4. Quali sono gli alimenti che non possono mai mancare nella tua dispensa per seguire il tuo piano alimentare sportivo? Allora da quando ho intrapreso il discorso appunto di fare questa attività in modo intenso perché mi ha preso veramente in combo ovviamente abbiamo intrapreso un tipo di alimentazione corretta cercando di evitare un po' tutti quei cibi spazzatura, quindi le fritture, le patatine e cercando di preferire a questi dei metodi di cottura sicuramente più sani e cercando di eliminare gradualmente, ma questo anche c'è dietro un'altra diciamo situazione di salute e cercando di allontanare sempre più le carni rosse, il pomodoro, determinati alimenti che non andavano più bene diciamo per il nostro stile di vita, mio e anche quello di mio marito perché questo è un discorso comunque sia di tutta la famiglia quindi sicuramente gli alimenti che non mancano mai sono alimenti biologici non manca mai il farro, non manca mai i bulgur, non mancano mai le fette biscottate integrali, non mancano mai i lati vegetali non mancano mai le barrette, non mancano mai comunque sia il pesce lo mangiamo, il petto di pollo lo mangiamo anche perché però cerchiamo comunque sia di mirare la nostra alimentazione a appunto dei cibi più sani e dei metodi di cottura sicuramente più sani domanda numero 5 è giusto sgarrare o bisogna trattenersi per ottenere dei risultati tangibili? allora se il discorso viene diciamo inquadrato nell'ambito di una competizione cioè che tu fai quella disciplina perché c'è una competizione, perché devi gareggiare, perché ormai è entrato a far parte del tuo stile di vita e vuoi raggiungere quell'obiettivo proprio e quella è la tua strada non puoi sgarare soprattutto se sei in pregara, soprattutto se appunto devi esibirti, devi mostrare il tuo corpo qualsiasi cosa devi fare, se c'è un obiettivo e c'è una competizione dietro non puoi sgarare altrimenti non puoi raggiungere quel determinato risultato nell'ambito di una cosa normale come penso di fare io quindi senza nessun eccesso e senza nessun fanatismo sgarrare ci sta, perché no ragazzi se magari un giorno sgarri l'indomani puoi un attimino tra virgolette rientrare nuovamente nel range dell'alimentazione quotidiana, quindi sì allo sgarro assolutamente domanda numero 6, come si fa a restare sempre motivate? allora, si resta motivate se ovviamente quella cosa che fai ti piace e se quella cosa che fai ti porta a un obiettivo ti porta a vederti bene, ti porta a volerti bene, a farti capire che comunque sia stai lavorando per quell'obiettivo per raggiungere quel risultato e quindi sì assolutamente sei motivato, anzi più risultati è come quando segui appunto una dieta e magari vai al controllo col medico, sei raggiunto un obiettivo sia ancora più motivato a fare sempre meglio, no? e quindi sì, devi avere molta forza di volontà, devi avere proprio costanza, tenacia e tutto quanto domanda numero 7, cosa ne pensi della dieta seguita dai bodybuilder a base di albumi, proteine in polvere e beveroni vari? allora, penso che la dieta che seguono i bodybuilder, fatta appunto di molte proteine, fatta di beveroni fatta di tanti integratori e questi sono un complemento di quello che è diciamo il loro stile di vita perché a parte il discorso alimentare se chiaramente non si aiutano un po' con questi integratori non credo che facilmente si possono raggiungere dei risultati chiaramente lo sport è alla base di tutto, l'allenamento è alla base di tutto, questo è chiaro però se tu vuoi gareggiare, parlo appunto di chi fa bodybuilding e quindi deve fare delle gare o altro per avere quel fisico asciutto, per avere tutti quei muscoli se non ti aiuti comunque sia anche con gli integratori, con le proteine, con gli aminoacidi se non ti aiuti con questi prodotti qui e ovviamente l'alimentazione e l'allenamento non penso che puoi ottenere questo tipo di risultato, secondo me ci vogliono, servono questi integratori cosa ti aspetti dall'allenamento fitness? questa è la domanda numero 8 allora io oggi non mi aspetto nulla, nel senso ho 42 anni, ho già fatto il mio percorso perché appunto come vi dicevo all'inizio del video ho intrapreso questa attività facendola diventare anche un lavoro perché nel tempo ho preso i brevetti quindi sono un istruttore di aerobica e di step e sono ormai più di 15 anni che svolgo questa attività quindi il mio percorso l'ho già fatto, adesso mi sta bene così chiaramente non ho il tempo che ti avevo prima da dedicare quindi non mi aspetto, non voglio raggiungere degli obiettivi assolutamente mi basta allenarmi, mi basta tenermi in forma e quindi sto bene così oltre tutto io sono una persona che comunque sia riconosco i propri limiti cioè c'è stato il tempo che ho dato e ho avuto dei risultati e adesso c'è il tempo che viene dedicato alla famiglia, viene dedicato alla casa viene dedicato al mio marito, viene dedicato al lavoro e quindi di conseguenza viene meno ma mi state vedendo? sì, aspettate che vi metto un pochettino più dritti viene dedicato al lavoro e quindi è chiaro che non posso più farlo con la stessa intensità e con lo stesso tempo che avevo prima quindi non mi aspetto niente, mi aspetto soltanto di... cerco di rimanere in forma facendo attività domanda numero 9, allenamento total body o allenamenti mirati? allora per il tipo di attività che faccio io, a parte l'attività aerobico, quindi ad alto impatto a parte le coreografie, c'è sempre poi una parte dedicata all'esercizio a terra molte volte lavoriamo quindi gamba addominale e glutei a volte lavoriamo soltanto braccia per cui sono per ogni lezione degli allenamenti diversi ma quasi sempre mettiamo in funzione tutto il corpo, tutti i muscoli del corpo la domanda numero 10 alimentazione bio con pasta integrale, latte vegetale, soia, frutta di stagione oppure vegana per moda? allora oggi purtroppo devo dire che molti seguono a molti viene facile dire sono vegana perché fa un po' moda no? fa un po' fighettina diciamo il fatto di essere vegani, il fatto di seguire, di comprare solo prodotti esclusivamente biologici e tutto quanto io assolutamente rispetto chi lo è per per sua scelta per per sua cosa anche oltretutto mentale perché secondo me è uno stile di vita intrinseco a te stesso quindi nasce da te e dal tuo pensiero però io sono più per un'alimentazione basata appunto si sui lati vegetali sulla pasta integrale quindi su prodotti biologici su prodotti di origine controllata su metodi di cottura più naturali piuttosto che appunto come dire far parte di tutti gli altri che magari si sentono vegani si sono... insomma non so trovare la parola giusta però ecco non mi piace il fatto del fanatismo il fatto di seguire un filone di moda perché adesso è diventato anche questo purtroppo perché prima non se ne parlava mai di tutte queste diete vegane, diete degli ariani, diete dei fruttariani non se ne parlava mai adesso invece è all'ordine del giorno perché comunque sia c'è dietro ci sono dietro veramente dei pensieri degli studi che comunque fanno parte della persona comunque non vegana per moda assolutamente cosa ne pensi quindi dei vegani, dei fruttariani? penso che è una scelta personale penso che uno è libero di fare quello che vuole io non tollero gli eccessi in tutto questo soprattutto quando questo tuo stile di vita compromette o come dire anche coinvolge il resto delle persone che ti stanno accanto e quindi poi diventa quasi un obbligo, una forza dura o altro se è un discorso che fai tu, un percorso che scegli tu di fare e sei libero di farlo assolutamente bene, però gli eccessi che possono come dire anche coinvolgere altre persone e quindi magari imporgli una determinata situazione a me non piace domanda numero 12 moda alimentare o stile di vita? e appunto la domanda precedente insomma mi ricollego stile di vita sicuramente se è una scelta fatta da noi sicuramente uno stile di vita oggi purtroppo c'è molta moda ma lo vediamo anche su instagram lo vediamo sui social quando io per prima posto alcuni prodotti o alcune diciamo pietanze che preparo ma dietro, parlo per quanto riguarda me dietro ciò non c'è nessun tipo di fanatismo e nessun come dire lo faccio così perché mi diverto, perché mi piace niente di... e poi non sono neanche tutte queste grandi cose elaborate assolutamente quindi per me è uno stile di vita non è un discorso di moda domanda numero 13 cosa ne pensi dell'educazione alimentare nelle scuole? penso che sia una cosa giustissima assolutamente perché i ragazzi vanno seguiti proprio dalle scuole elementari io ricordo che quando i miei figli andavano alle scuole elementari c'erano delle giornate in cui un'associazione che si occupava di frutta, verdure, ortaggi, queste cose qua andava girando nelle scuole e lasciava ad ogni bambino un piccolo sacchettino dove all'interno c'era o della frutta fresca o c'erano delle confezioni di carote mi ricordo una volta c'erano delle confezioni di pomodorini quindi sicuramente educare i bambini sin da piccoli a una giusta alimentazione educare i bambini sin da piccoli a svolgere un'attività sportiva senza nessuna pretesa senza nessun obbligo perché deve essere anche una cosa divertente io sono assolutamente d'accordo secondo me andrebbe introdotta nelle scuole proprio come materia l'educazione alimentare perché vediamo tante situazioni credo che ormai anche in Italia ci siano queste situazioni ma l'America ne è piena di tanti bambini che sono purtroppo obesi e alla base di tutto è soltanto un'alimentazione sbagliata a volte per carità sono delle delle patologie e tutto un mondo da insomma da studiare però educarli sin da piccoli a un'alimentazione sana e non sicuramente basato tutti i giorni da cibi del del mcdonald da hamburger da fast food e tutta questa roba qui che oltretutto rovinano lo stomaco secondo me è giusto educarli sin da piccoli la domanda numero 14 indirizziamo i bambini fin da piccoli allo sport o comunque di una disciplina sì assolutamente purché questa non diventi come dire un obbligo cioè io ti faccio fare questa attività se a te piace fare questa attività e se tu da questa attività ne trai un gioco ne trai un divertimento ne trai una passione se io invece per un mio fanatismo o chissà che di mamma voglio che mio figlio frequenti quella disciplina perché mi deve portare dei risultati perché è obbligato a fare gli allenamenti quattro ore su sei no quello non mi va è una scelta del bambino io lo porto lungo quella strada poi è un percorso che continua il bambino ultima domanda mente sana in corpo sano commenta questa frase credo che questa frase sia la chiave di tutto perché una mente sana quindi una mente che comunque sia lavora pensa si documenta guarda la tv legge quindi una mente comunque sia allenata e aperta alle culture aperta ai dialoghi aperta a confrontarsi con le persone sicuramente ciò ti permette di inglobare tutto quello che tu vuoi prendere da questa società quindi vedi l'alimentazione naturale vedi i metodi di cottura vedi lo sport vedi una dieta alimentare fatta di prodotti appunto pesati misurati e adatti al tuo organismo una mente sana sta dentro un corpo sano se io mi vedo bene è perché io ho capito che devo lavorare per vedermi bene quindi ho capito che se voglio stare bene con me stessa e voglio piacermi devo anche con la mente entrare in questa modalità quindi sapere che non devo come dire privarmi di determinati cibi non devo privarmi di determinati eventi scene o tutto quanto però magari sapere che laddove lo faccio ed è giusto che lo faccio l'indomani ritornare nuovamente nei parametri per far sì che i sacrifici che magari tu stai facendo per raggiungere quell'obiettivo non vadano in fumo quindi sicuramente la mente e il corpo ragazze sono un binomio che lavorano insieme sono l'uno il complemento dell'altro questo è il mio pensiero questo video si è dilungato tantissimo spero che vi sia piaciuto ovviamente il video in collaborazione con Carmen ma chiunque si sente io sono stata contentissima di farlo con lei perché vedo anche lei che è una ragazza molto energica che le piace il fitness vedo che si allena in palestra vedo che anche lei approccia anche a questo tipo di alimentazione tra virgolette sana ecco e quindi è stato un piacere farlo con lei ma mi fa davvero piacere se chi si sente in questa modalità come noi chi si sente in questo spirito sportivo insomma fatelo ragazze siete tutte taggate chi vuole fare questo tag siete assolutamente tutte taggate non dimenticate di dire la vostra come sempre nei commenti di iscrivervi al canale se non siete iscritti andate a dare un occhio a quello di Carmen e niente ragazze ci vediamo al prossimo video un bacio ciao ciao